Gentili telespettatori, buona giornata. Avete visto che le notizie di oggi su una possibile fusione tra Lega e Forza Italia a me hanno lasciato abbastanza esterefatto una fusione tra il partito della Lega e di Berlusconi per posizionarsi al centro ed evitare alla Meloni di diventare presidente del Consiglio. Sarà vera, non sarà vera? Vedremo che cosa succederà. Certo è una notizia abbastanza clamorosa, se fosse vera, se fosse vera, attenzione. Intanto Matteo Salvini è andato in Europa per degli incontri organizzati dal gruppo Europa Identità e Democrazia e ha fatto visita a Matteo Salvini anche al santuario della Madonna di Fatima. Intanto in Europa cerca e ha proposto l'unione del centro-destra, tutto, compreso il partito dei conservatori della Meloni per unirsi contro la sinistra. Forza Italia avrebbe detto no e Giorgio Meloni lo stesso avrebbero detto no. Matteo Salvini in queste ore è arrivato in Portogallo per partecipare, come vi dicevo, al meeting del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo. L'agenda del Capo della Lega in terra portoguese è particolarmente fitta, ma non ha impedito al Capo della Lega di avere qualche ora di tempo per recarsi al santuario della Madonna di Fatima, uno dei principali luoghi del pellegrinaggio in Europa per i cattolici cristiani. Aveva annunciato domani mi prendo due ore per andare a Fatima e raccomandare l'Italia al cuore di Maria. Poi torno in Italia per tornare a lavorare, al congresso ciega, a Coimbra. Matteo Salvini sabato ha ribadito la sua intenzione di visitare appunto Fatima. Ringrazio Andrè Ventura per avermi dato l'opportunità di visitare domani Fatima, perché l'Europa è cristiana, il Portogallo è cristiano, l'Italia è cristiana e non ci sarà mai spazio per altre cose, dice. Per me è una gioia, un'emozione. Ho consacrato anche la salute del mio popolo, gli italiani, al cuore immacolato di Maria. Questo è un luogo sacro, non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita, senza valori e dal mio punto di vista senza fede. Io sono per la libertà religiosa, educativa, di pensiero e di parola. Do rispetto, ma chiedo rispetto, dichiara Matteo Salvini dopo aver fatto visita al santuario. Parole convinte da parte del leader della Lega che poi ha proseguito, l'Europa è nata qua e su questi valori può crescere e può guarire e prosperare. La visita al luogo sacro in Portogallo non è stata organizzata all'ultimo minuto da parte di Salvini e del suo staff, ma è stata pianificata ben prima della partenza. Infatti, a margine di un incontro della Lega a Milano, nella giornata di sabato, il leader della Lega aveva dichiarato Andrò a Fatima e cercherò un'illuminazione. Vado a raccogliere un suggerimento utile. Una battuta riferita al fatto che la coalizione di centrodestra ancora non ha trovato una quadra sulle proprie candidature alle prossime elezioni amministrative. Da Fatima, quindi, il leader della Lega ha dichiarato Noi parliamo ai cuori, alle teste, alle donne e agli uomini. Ognuno ragiona con la sua ritesta, prega con il suo cuore e vota con la sua mano. Non veniamo a chiedere o a togliere niente a nessuno, però testimoniamo la nostra fede e ci tengo a farlo anche con le mie opere. Intanto, poi, stavo leggendo un articolo contro Giorgia Meloni, ovviamente, camuffato. Dice, Giorgia Meloni, un'antipolitica politica, questa è la formula che fa crescere la Mironi. Guarda, vi faccio presente questo articolo uscito oggi e dice che Giorgia Meloni praticamente sta prendendo i voti dei grillini e dalla stanchezza dei leghisti. Quindi, in questo articolo si fa capire che la Meloni prende i grillini, insomma, e che esiste poi... sono tutti cittadini che odiano la politica e pertanto ne disprezzano le forme, ne irridono le manifestazioni, non hanno dubbi sull'immoralità della politica e così trovano questa leader di riferimento alternativa alla politica ufficiale. Quindi, Giorgia Meloni sarebbe alternativa alla politica ufficiale, forte di una sua costruita, finta coerenza e soprattutto, come si diceva, è su un leader. Lei rappresenta la nuova fase dell'antipolitica, riempie i vuoti lasciati dal Movimento 5 Stelle. Ecco, insomma, è pieno ormai di questi articoli che cercano di denigrare Giorgia Meloni, che non rappresenta assolutamente l'antipolitica. È una vera politica, Giorgia Meloni, sotto tutti gli aspetti. Non sanno come criticare Giorgia Meloni, perché, come vi dicevo in altri video, è difficile criticare Giorgia Meloni, perché prima di parlare lei ci pensa 20 volte, dice delle cose misurate, non esprime giudizi prima di non essere certa che la notizia sia vera. Sapete che tanti politici salono a notizia e poi la notizia era falsa, non era vera, e poi non sanno più che cosa dire. Quindi lei è molto attenta a questo. È difficile, pertanto, criticare qualche passo falso di Giorgia Meloni. Non ce ne sono passi falsi. E pertanto molti giornali si cimentano in tutte delle lucubrazioni mentali, i vuoti, i cinque stelle, lei è l'antipolitica, costruisce una coerenza falsa. Tutta una messa in scena che voi sapete che io prima di fare i video leggo gli articoli, li cerco dappertutto, e spesso, soprattutto, comincio ad imbattermi in articoli dove si vede proprio la volontà di costruire tutta un filo logico contro la leader di Fratelli Italia, ma si capisce dalla prima frase che è tutta una costruzione artefatta per indurre le persone a pensare di Giorgia Meloni quello che assolutamente non è. Infatti Giorgia Meloni dice io ho dovuto scrivere un libro, un mio diario fino ad oggi, proprio perché, visto che dicono di me cose non inesatte, inesistenti e false, almeno gli do un libro sul quale possano esprimere dei giudizi su quello. Ma non è andato così, perché i giudizi se li stanno continuando ad esprimere, visto che anche nel libro non hanno trovato molto a cui attaccarsi, adesso esprimono delle considerazioni completamente campate per aria come questo articolo che ho appena, appena visto. È tutto un articolone, parole, frasi, frasi, vuoto grillino, stanchezza dei leghisti, Matteo Renzi, tutto buttano dentro per discreditare Giorgia Meloni. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.